Magia e magia viene da imago, immagine, vuol dire lo schema, come dire la formula della relatività di Einstein è magia. Passato, passato è passato, ma a me mica mi è passato, non è mai passato. Ma guarda a chi si vede qua, che cazzo ci vai facendo da dottor? E lui è un artista. Tutto è uno, uno è tutto. E teo uno, omnia es videa. La signorina è una giornalista che è arrivata da Milano. Tara vuol dire all'aramaico, percorso circolare. Che cosa percepisce una tarantata? Momento di libertà estrema, senza nessun condizionamento e senza nessun controllo. E' come vedere l'alba per la prima volta. Ha ballato, ha ballato, ha ballato. Ha ballato questa tarantella. messo in carcere per aver rubato la gallina del principe. Musica 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 Grazie a tutti.